A tutela dei consumatori che devono poter sapere cosa stanno acquistando c'è il documento unico delle DOC. Ne parliamo qui a Vinitali 2011 con Michele Zanardo che è il vicepresidente del comitato Viti Vinicolo Nazionale. Cos'è questo documento unico delle DOC? Il documento unico è un nuovo documento che è stato predisposto alla comunità europea al fine di garantire i consumatori rispetto a quello che è l'acquisto di un vino a DOC o a indicazione geografica tipica. In buona sostanza è una carta di identità del prodotto che delinea tutti i tratti principali della denominazione dall'area di produzione alle varietà di vite con cui può essere prodotto, alle menzioni che può riportare in etichetta, alle rese a etero. Quindi in sostanza è il succo di quello che è il disciplinare di produzione della denominazione di origine dei vini. Quindi ogni DOC ha il suo documento unico? Ogni DOC ed ogni IGT dal 1 gennaio 2012 aveva pubblicato online presso il sito della comunità europea il documento unico della denominazione di origine o dell'indicazione geografica tipica.